Si muovono in rally i principali mercati di Eurolandia. Andamento positivo anche per piazza affari In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Telecom Italia, più 2,96%. Le peggiori performance si registrano su Campari, che ottiene meno 0,68% Invariato lo spread, che si posiziona a più 254 punti, con il rendimento del Btp decennale che si attesta al 2,48% Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, in Italia annunciati prezzi alla produzione su base annuale, pari a 3,1%. Su base mensile, lo stesso dato si attesta su meno 0,1%. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti, sarà pubblicata la fiducia consumatori dell'Università del Michigan Attesa una partenza stabile per la borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P 500 è positivo, in sintonia con il future su Nasdaq 100 che tratta 7.385 punti